Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel con la rubrica Nutrizione e Benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa edizione ci parlerà dei spinaci. Allora, perché mangiare gli spinaci e quali le proprietà? Sì, allora gli spinaci sono un ortaggio di cui esistono tantissime varietà, in effetti vengono suddivisi soprattutto in primaverili ed invernali, questo a seconda del periodo di raccolta. Ovviamente per tanto tempo sono stati considerati un po' gli alimenti più ricchi di ferro, in realtà come vedremo è più un falso mito, insomma che poggia solo su alcune parti di verità. 100 grammi di spinaci apportano all'incirca 30 calorie, sono ricchi di sali minerali, quindi ferro ma anche potassio, calcio, fosforo, magnesio e vitamine come la vitamina A, la vitamina K e la vitamina C. Ovviamente quando li prendiamo sul gelato per la maggiore concentrazione di acqua le calorie scendono però vengono conservati i micronutrienti, quindi sali minerali e vitamine. Quando invece li andiamo a cuocere le calorie tendono ad aumentare però disperdiamo quelli che sono i micronutrienti. Che appunto come dicevamo il ferro in realtà ne contiene 3 milligrammi che è comunque una buona quantità però non è tanto una questione di quantità quanto di biodisponibilità da parte dell'organismo. In effetti il ferro contenuto negli spinaci si trova sotto una forma che chimicamente viene detto ferrico o trivalente che è poco assimilabile da parte dell'organismo. In più gli spinaci contengono ossalati che contrastano l'assorbimento da parte dell'organismo del ferro e contiene anche calcio che compete sempre con il ferro per la biodisponibilità. Quello che possiamo fare è quando andiamo a consumare gli spinaci di aggiungere sempre vitamina C perché questo ne aumenta la biodisponibilità. Ovviamente la vitamina C è già contenuta all'interno naturalmente negli spinaci però quando li andiamo a cuocere ovviamente in parte viene dispersa e quindi è consigliabile di aggiungerlo in più ad esempio con del limone. Altre proprietà riguardano la grande ricchezza di fibre che quindi aiutano il transito intestinale e contrastano la stitichezza. Contiene potassio che quindi migliora la diuresi, contrasta la ritenzione idrica, la cellulite aiuta anche a mantenere la pressione sotto controllo. Le fibre contrastano o meglio diciamo riducono l'assorbimento degli zuccheri da parte dell'intestino quindi facilitano il mantenimento della glicemia all'interno dei regimi normali e questa grande ricchezza di micronutrienti o comunque la completezza dei micronutrienti ne fanno un alimento anche adatto per esempio per gli sportivi perché anche i grassi se pochi contengono anche però dei grassi del tipo di omega 3. La prima controindicazione riguarda la vitamina K quindi per chi fa in terapia anticoagulante ne deve fare un consumo molto molto limitato. Contengono salati come abbiamo detto che quindi lo rendono un alimento sconsigliato per chi soffre di calcoli renali, le fibre possono dare in caso di colite un po' dei disturbi intestinali e poi è uno di quegli alimenti che contiene nickel quindi per gli intolleranti a nickel sono sconsigliati. In genere comunque quando è possibile consigliamo sempre di preferire degli spinaci biologici questo perché quelli coltivati in sera tendono ad avere una maggiore concentrazione di nitrati i quali soprattutto quando sono in abbinamento con alimenti che contengono ammine come la carne, pesce o altri tipi di alimenti possono formare dei composti che si chiamano nitrosammine che sono potenzialmente pericolosi. In genere comunque si preferisce sempre di consumarli crudi proprio per conservare al meglio quelle che sono tutte le proprietà oppure con una cottura tipo una cottura al vapore che consente di conservare in parte almeno le proprietà. Bene, grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana.